Ciao a tutti ragazzi, sono Bernie e oggi è stato un nuovissimo video dopo tanto tempo di Brawl Stars Come vedete ho giocato un bel po' e sono a 1994 trofei Manca una win in sopravvivenza e arrivo a 2000 trofei E poi qui in basso a sinistra come vedete ho ben 14 casse Quindi poi dopo quando prendiamo Dynamike le possiamo aprire Quindi oggi sarà un video speciale Adesso decidiamo il Brawl che utilizzare E poi ci ritroviamo in partita Taglia Ok, mamma scegli il Brawl Mamma scegli uno, due o tre E' il primo Ok ragazzi stiamo entrando come vedete Lì c'è un Un coso, un bull E noi ce ne scappiamo Fuggi, fuggi, fuggi Oh my god, lì si stanno devastando Andiamo a mezzare Anzi non scherzavo Allora dai vediamo cosa fa Oh no, lì ce la prende Oh sono morto, sono morto Raga, sono morto Dai andiamo a camperarcela E boom Andiamo a spaccare questo Perché Perché se no Ci fa danno Occhio che qua ci ammazza Non ci arriverò mai Siamo ancora rimasti in dieci Oh my god Ok, nove Perfetto Io me la voglio camperare un po' Perché Se no la perdo Cioè almeno Fino a cinque persone Me la campero Poi Inizio ad attaccare Perché così Inizio a A prendere i trofei Ok ragazzi Mi sta attaccando Un tizio Un tizio Un bull No, no, no Va bene questo Fuggi, fuggi, fuggi Dai che è scarso Dai che è scarso Dai che è scarso Vai entriamo qua Andriamo qua Andriamo qua Vai vai boom Oh my god Troppo forti Oh my god Troppo forti Ok Siamo rimasti in due Perfetto Quanti Robi ha Otto Fuggi, fuggi Oh my god Questa è persa Ma la devo giocare Di tattica Città di tattica No, no No raga 1500 No Sì 1500 158 Di Di vita No Va bene Dai fuggi Più 6 Oh ragazzi Ce l'abbiamo fatta Dai la mic Ragazzi Dai la mic Non ci credo Abbiamo dai la mic Dopo tanto tempo Dopo un botto di tempo Che ci sta giocando Ce l'ho fatta Ad arrivare a 2000 trofei Lo prendiamo ragazzi E non ne voglio Sapere Più niente Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Guardatelo qua Oh my god Dai la mic Adesso Perfetto C'è proprio la prima partita Poi eh Quindi perfetto Quindi adesso Ci apriamo Tutte le casse Box opening Che abbia inizio Allora Prima box 14 monete Punti energia Jesse Più 4 Colt più 5 E biglietti degli eventi Più Basta Ok Pensavo che c'era qualcosa altro Ok Allora Più 50 monete Poi più 7 Brock Più Il primo Più 10 Il primo E boom Dai però Dai la mic Non mi va a trovare Cavolo Allora Più 70 monete Buonissimo Più Brock Più 8 Brock Che ce ne stanno Dando Tantissimo Ci ne stanno Tantissime Più 8 Il primo E boom Quello che poi abbiamo Utilizzato per vincere Cioè per arrivare Secondi Va bene Dai un'altra cassa Più 23 monete Più 5 shell Più 5 pam E 3 gemmine Bello Buono 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 E poi io Volevo prendere Carl Solo che non c'ho Abbastanza gemme Quindi Poi boom Magari lo prenderemo Più avanti Se lo trovi Cioè Lo troveremo Prima o poi Tanto è È rarità È rarità Super raro Mi sembra È rarità super raro Quindi si trova Anche abbastanza Facilmente Apriamo Un'altra Cassetta Un'altra box Più 17 monete Più 5 Brock Più 6 penny Buono E boom Dai però Vogliamo trovare Stai la mic Dai 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 Più 8 monete Più 8 pocio Più 15 jessi Mi sa che la posso potenziare Andiamo a vedere No Di pochissimo Se la troviamo ancora Buono la potenzi Se posso Con soldi Più 15 monete Più 4 penny Più 5 Dynamite Signori Signori Più 5 dynamite I primi dynamite Che ne ho trovato Perfetto Guarda che bello Ma stupenda Mi piace un bot Dynamite Poi ci farò anche Solo un gameplay A parte Dopo ci facciamo anche Due partite Una o due partite E boom Più 6 dynamite Che buono E boom Allora Più 14 monete Più 6 penny Più 7 jessi Lo possiamo potenziare Mi inizia sto Box opening E sta venendo Cioè una Una bestia Una bestia Cioè Proprio stupendo Poi 2000 trofei Proprio precisi Abbiamo Attenzione Questa carica 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 Ok Più 17 monete Più 4 pam E più 15 shell Buono 15 buono Più 3 monete Buono 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 Perfetto Allora Più 16 monete Più 4 pocio Più 6 pam Ed è buono Oh Sto box opening Sta venendo benissimo Cioè è stupendo Però Io volevo potenziare Dynamite Solo che Non ce la facciamo Vabbè Più 15 monete Più 6 block Più 6 nita Se ci danno In una cassa Tipo nella cassa enorme Tantissime Ci sta Allora Allora L'ultima Eh box L'ultima cassa piccola Allora Più 20 monete Più 4 blue Bull Più 6 dynamite Oh Ci devono altri Ci devono dare altri Dynamite Non mi interessa Ci devi dare Dynamite Vai Cassa enorme per noi Sta caricando Perfetto Allora Più 52 monete Più 3 c'è il primo Dai Dynamite L'ho chiamato Oh mio dio Più 14 Dynamite Che bello Lo posso pure potenziare La prima cosa che faccio Più 20 franc E boom Stupenda questa cassa Signori Andiamo a potenziare Dynamite Sì Già a livello 2 Signori E vabbè Jesse No no Che fail Non pensavo che costava 290 Potevo Ho spiegato tutte le monete No ma io sono scemo Potevo potenziare anche altri Vabbè Però Jesse mi piace Quindi no Non fa niente Dai Uh c'era pure Pam Vabbè Vabbè Adesso ci facciamo Una partita Con Dynamite E poi Boom Se forse anche 2 Dipende Vediamo Allora Vai Solo sopravvivenza Speriamo in bene Taglia Mi mamma Stupendo Ok ragazzi No ma che stupendo ragazzi Quello lo divastiamo Vero No vai vai Boom Boom Signori Signori Che kill Stupenda Signori Siamo troppo forti Con Dynamite Per questo Che io lo adoro Oh mia dio Toglio un botto Dynamite Siamo troppo forti Con Dynamite Oh mio dio Siamo troppo No lì c'è No Ci sono 2 nuovi brawler Signori No 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 Allora dai Cerchiamo di No è vero Che mi prende la cassa Scappa Io sono scemo No Sono morto Sono morto Sono scemo No No Che qua Oh raga raga Che fortuna No che fail No Tutti miei Tutti miei Tutti miei Oh mio dio Tre punte nei È già easy Ok Mi inizia Siamo troppo forti No 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 Questo ci ammazza Questo ci ammazza Ci Alexis No Siamo arrivati Secondi Secondi Mi sembra Terzi Buono 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 Perfetto dai ci facciamo l'ultima partita E poi Oh mio dio ragazzi Che è stupendo Questo brawler è stupendo Uh ci hanno uscito questa cassa E c'era pure il nuovo brawler Che ci ammazzava proprio malissimo Cioè ci ammazzava di brutto Se ci veniva contro Dai che ce lo facciamo 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 Ah no 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 scappa Ok Sì Signore ce l'abbiamo fatta Oh mio dio ma togli troppo Ma quanto siamo forti Sì ma siamo troppo forti Ma poi quanti nuovi brawler ci sono Li faccio la strada Li faccio la strada Li faccio la strada C'è i signori Oh mio dio Se li Se li tiravano l'ulti Facevano la strage Ok ragazzi c'è un broc Ok ce lo facciamo No è vero che questo fa male Questo fa male Questo fa male Boom Ma no Più di noi No 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 Questo ci ha fatto malissimo No siamo morti Eh vabbè siamo morti Ragazzi No spara qua Non sparava Ragazzi Non mi sparava lì Fa niente dai Più 7 Buono 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 Va bene ragazzi Va bene Ok ragazzi ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo già al grado 2 2013 trofei ragazzi Io vi saluto Con questo nuovo brawler E con Con un box opening E noi ci ritroviamo In un prossimo video Di un altro gioco O di Brawl Stars Ciao Ciao